E il volo di ogni uomo La scienza degli iniziati Eugene Cosgrove, 1938 Bocca editori Domanda E questo è il sentiero? Risposta Ciascun uomo è il sentiero Non ve ne sono altri, io sono il sentiero E la gloriosa realizzazione di ogni anima La quale è la luce che risplende sempre più Fino al perfetto giorno Domanda Ciò significa solitudine? Risposta Essere soli ma non in solitudine Il sentiero è il volo di ogni uomo da solo a solo Ma osserva Sulle sabbie del lungo sentiero Vi sono le impronte di coloro che le hanno prima calcate Io sono le impronte di coloro che le hanno prima calcata Grazie a tutti Grazie a tutti